Concludiamo questa panoramica sui dialoghi di Seneca parlando delle ultime opere di datazione incerta che sono il De Providenzia e il De Costanzia Sapientis. Intanto mi scuso per il refuso Providenzia con una vussola però non ho potuto correggere altrimenti avrei dovuto rifare la presentazione sulla quale si è basato questo video da capo e ho preferito evitare. Dunque, di che cosa parla il De Providenzia? La collocazione cronologica appunto come ho detto è incerta. Sul richiesta di Lucilio Seneca si interroga sulla natura e le finalità dei mali che colpiscono gli uomini, specialmente i mali che colpiscono gli uomini più saggi, più virtuosi, i più innocenti. Con una sensibilità che è diversa rispetto a quella moderna, Seneca, da uomo dell'antichità, da uomo del mondo classico, che cosa ci dice? Ci dice che i mali sono fondamentalmente delle prove, i dolori, i lutti che ci colpiscono nel corso della vita, sono delle prove che vengono offerte quasi provvidenzialmente agli uomini virtuosi appunto per mostrare la loro virtus, per mostrare il loro valore, che altrimenti se non mai messo alla prova non sarebbe significativo, non potrebbe, come dire, mostrarsi per quello che realmente è. Certo è un modo di interrogarsi, di rispondere a una domanda che è antica come il mondo, perché il male appunto, perché Dio, la provvidenza o qualunque altra forza del genere, il fato, permettono il male e soprattutto permettono che il male, il dolore, la morte, la malattia, la sofferenza, vadano a colpire proprio le persone migliori, no? Le persone che non se lo meritano. Che tipo di giustizia c'è in questo? È una domanda che gli uomini si sono sempre posti, che si pongono ancora oggi, è una domanda alla quale appunto Seneca, sulla scorta della filosofia stoica, da questa risposta. Il male ci mette alla prova, il male ci aiuta a dimostrare appunto il possesso della virtù, dell'autosufficienza, della capacità di adeguare praticamente la propria vita, il proprio essere, ad una prospettiva, ad una dimensione più ampia, ad un logos, una ragione più ampia, più vasta. Si capisce anche un'altra cosa da questo tipo di riflessione che fa Seneca. Seneca è forse il filosofo antico che, per molti versi, è più vicino al cristianesimo, al punto che è stata anche ipotizzata una sua corrispondenza con San Paolo, una corrispondenza che in realtà è falsa, non si è mai effettivamente verificata. Ma non è un caso che si sia potuto pensare, immaginare una cosa del genere, per quanto falsa, oggi si direbbe una fake news, no? Perché effettivamente nello stoicismo di Seneca ci sono degli aspetti che molto si avvicinano ad una sensibilità morale di tipo cristiano. Basti pensare, per esempio, al suo universalismo, al suo rivolgersi a tutti gli uomini, indipendentemente dal fatto che essi siano schiavi o siano liberi. Gli schiavi nel mondo antico non venivano considerati nemmeno completamente umani, basti pensare a quello che ne dice Aristotele. Seneca che cosa ci dice? Gli schiavi sono schiavi, anzi sono uomini, gli schiavi sono schiavi, anzi, dice lui, sono umili amici, gli schiavi sono schiavi, anzi sono compagni di schiavitù, conservi, lui dice. Perché questo? Non lo dice nel De Providencia, lo dice altrove, però questo tipo di citazione mi serve proprio per chiarire il punto. Non che Seneca metta in discussione la schiavitù, ma anche in questo caso la durezza del destino di uno schiavo serve a metterne alla prova la virtus, quella scintilla di logos, quella scintilla di ragione, no? Che è la vera fonte della giustizia che alberga in ogni uomo. Quindi qualsiasi rovescio della fortuna o della sorte a questo serve. In qualche modo siamo vicini ad una sensibilità che poi dirà che cosa? Ognuno prenda la sua croce e mi segua, ognuno quindi patisca nel mondo terreno, sofferenze, mali eccetera, perché poi sarà gratificato in seguito nell'aldilà dal premio celeste, dalla felicità ultraterrena, dalla felicità eterna, dalla eterna visione di Dio. Questa è l'immagine cristiana, il dolore che serve appunto, diciamo, a purificarci e ad avvicinarci in qualche modo a Dio. Certo, la prospettiva di Seneca è una prospettiva comunque diversa, perché in ogni caso resta una prospettiva individualistica, aristocratica. Il saggio è uno che agisce su se stesso e difficilmente ha un'apertura nei confronti dell'altro, del prossimo, come si presuppone nel cristianesimo. Certo, questo è vero, però è anche vero che lo stoicismo, e in particolare lo stoicismo di Seneca, si presta proprio ad essere avvicinato ad una sensibilità cristiana. Può essere assimilato, è stato assimilato di fatto, all'interno del cristianesimo. È uno di quegli apporti del mondo pagano che il cristianesimo è riuscito in qualche modo a fare suo. Mentre non ci sarebbe stata nessuna possibilità per l'epicureismo, che è materialista e che è profondamente antiprovvidenziale, non crede in una provvidenza, crede che il mondo sia regolato a caso e che gli dèi, seppur esistono, siano totalmente indifferenti nei confronti del destino dell'uomo. Con l'epicureismo non era possibile avere nessun tipo di vicinanza. Con lo stoicismo e anche con il platonismo, ovviamente, invece sì. E quindi, diciamo, anche per questo motivo Seneca è uno di quegli autori che è più profondamente rimasto nella tradizione filosofica, spirituale, morale, etica dell'Occidente. Mentre invece, per esempio, l'epicureismo, sì, certo, è stato riscoperto, ha sempre agito in qualche modo sotto traccia, però per arrivare alla riscoperta del della romenatura si è dovuto aspettare l'umanissimo e la riscoperta appunto di questo, del codice, dell'unico codice che ne era rimasto nel 400 ad opera di Poggio Bracciolini. Viceversa, insomma, il Seneca morale in qualche modo è rimasto nel tempo, ha influenzato Petrarca, ha influenzato Dante e altri. Questo per quanto riguarda il De Providenzia. Nel De Costanza Sapientis, Seneca appunto affronta il tema del saggio, si dimostra ancora che il sapiente non può essere colpito da nessuna offesa perché la sua forza e la sua superiorità morale lo rendono invulnerabile di fronte a qualsiasi attacco dall'esterno. Non può subire alcun danno perché l'unico bene autentico per lui consiste nella virtù che nessuno gli può togliere. è una totale interiorizzazione dei valori, dei valori umani, tipica dell'ostecismo e che in questo caso viene, diciamo così, presentata con un estremo rigore fino proprio a ipotizzarne le estreme conseguenze. Quindi il saggio ha questa imperturbabilità, questa coerenza, Costanzia significa coerenza, che gli permettono di non essere toccato mai veramente da nessun tipo di male. Ma volevo concludere questa trattazione tornando un po' indietro cronologicamente, tornando ad un dialogo che non ho ancora trattato, il De Ira, che è stato composto in parte prima dell'esilio, il primo e il secondo libro, in parte durante l'esilio, nel terzo libro. Possiamo definirla forse un'opera certo più giovanile rispetto alle ultime di cui abbiamo parlato, però è un'opera che presenta alcuni aspetti particolarmente interessanti. Descrive, in particolare nel primo libro, la sintomatologia della passione, dell'ira, e soprattutto dimostra che l'ira non può avere un'origine soltanto nell'istinto. L'ira, quando si manifesta, può essere, spesso è, un'ira fredda, che non deriva da un'immediata reazione rispetto ad un'offesa che uno ha patito, ma può essere, per molti aspetti, insomma, un effetto, come dire, mediato dalla ragione, presuppone un coinvolgimento del progetto, del calcolo, e quindi abbandonarsi all'ira diventa un qualcosa ancora più colpevole. Fra l'altro è memorabile all'interno del deira la descrizione di Caligola, che peraltro odiava Seneca, questo lo sappiamo, e non è riuscito ad ucciderlo soltanto per un caso, cioè soltanto perché gli venne detto che Seneca era così malato che sarebbe morto da solo, invece viceversa Seneca è morto anziano e, per mano sua, per suicidio, quindi Caligola è stato, come dire, ingannato dai fatti. Ecco, Seneca nel deira mostra proprio la descrizione dell'imperatore Caligola, della sua crudeltà collerica, mostruosa, del suo abbandonarsi all'ira. Perché è interessante questo trattato? Per esempio, per il modo con il quale Seneca descrive la società degli uomini. Al solito Seneca è molto abile nel descrivere la concretezza della vita delle persone, anche nei suoi aspetti più deteriori, qualcosa del genere abbiamo visto già parlando del Debrevitate Vite. Lui descrive il foro romano all'epoca sua in questo modo. Il foro è stracolmo di folla e i recinti sono pieni di gente di ogni risma. E quel circo in cui si mette in mostra la maggior parte del popolo romano, ecco, in quel circo sappi che qui ci sono tanti vizi quanti uomini. E Seneca descrive tutto l'affannarsi per provocare danni gli uni agli altri, per farsi del male, per odiare, per l'invidia nei confronti di chi è più fortunato, il disprezzo nei confronti di chi è più disgraziato, la incapacità di sopportare il superiore e la prepotenza nei confronti di chi è inferiore. E descrive questo mondo, il mondo di Roma, così come si manifesta nella folla, nella folla cittadina, in questa maniera. Codesta è una cozzaia di belve, con la differenza che quelle tra di loro sono mansuete e non mordono i propri simili. Queste invece si saziano sbranandosi a vicenda. Differiscono dagli animali muti nel senso che questi sono mansueti con chi li nutre, mentre gli uomini divorano rabbiosiamente chi li ha nutriti. Quindi, ecco, appunto, abbiamo ancora una volta una contraddizione. Certo che Seneca matura dopo il Deira ulteriormente il suo pensiero, però questa descrizione ci fa scorgere in fondo un disprezzo tutto aristocratico nei confronti del resto dell'umanità. D'altra parte, invece, in altri testi, vediamo come Seneca invece si apre, diciamo così, ad una considerazione più ampia e che in qualche modo trascende e supera i limiti di una certa etica antica, che comunque è sempre stata un'etica aristocratica. Diciamo che Seneca sta un po' sul discrimine fra due mondi e due modi differenti di rappresentare il rapporto con l'altro, con il prossimo. Da un lato, appunto, c'è il saggio che è perfetto, chiuso nella sua virtù. Da quell'altro lato però c'è anche la consapevolezza, c'è il disprezzo, quindi un attimo, nei confronti degli innumerevoli vizi degli uomini che siano preda dell'ira o che siano occupati. Da quell'altro lato però c'è anche, diciamo, la consapevolezza che certi vizi, certi difetti fanno parte anche dello stesso Seneca, no? E che quindi la debolezza, in qualche modo, se non giustificata, vada almeno compresa, descritta, capita, e ad essa vada offerta una qualche forma di salvezza attraverso la saggezza, attraverso la filosofia.